Anche Castellabate condivide l'iniziativa Illuminiamo, promossa da Pippo Pelo per il Comune di Salerno, proponendo alla cittadinanza e ai commercianti di adobbare i propri balconi, le facciate e le vetrine dei pubblici esercizi con luci natalizie. Un messaggio di speranza che scaldi l'atmosfera in questo periodo storico, buio e difficile per tutti. L'amministrazione comunale, in considerazione del momento particolarmente delicato, ha deciso quest'anno di destinare i fondi solitamente spesi per le luminarie natalizie a scopi benefici e a servizio della cittadinanza in difficoltà economica. Il Comune ha comunque previsto di collocare un semplice ma simbolico albero luminoso per ogni frazione di Castellabate e di attivare la misura di filodiffusione su corso matrazzo. I cittadini e i commercianti che aderiscono all'iniziativa potranno inviare una foto delle proprie luminarie natalizie all'indirizzo e-mail segreteriasindaco chiocciolacomune.castellabate.sa.it per mostrarle ai propri concittadini attraverso la condivisione sulle pagine Facebook istituzionale del Comune nell'album Illuminiamo Castellabate, l'albero simbolo di rinascita che abbiamo deciso di apporre in ogni frazione del territorio. Ci auguriamo che possa essere accompagnato dalle tante luci provenienti da case e vetrine del territorio. Lancia un messaggio di unione ed intenti il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Quest'anno più che mai dobbiamo restare uniti, anche se a distanza, per rendere queste festività meno buie possibili.